Combattere il regime aveva un senso, ma distruggere il pianeta per bregna? Pensavi davvero che l'avrei fatto, Grodd? Possibile? F***i! Mi spiace, è passato così tanto, sorellina. È vero, accampo sempre scuse, ma stavolta ho trovato il modo giusto di onorare la tua memoria. So cosa starei pensando. Il vecchio Lenny si è venduto. E allora? Il regime Obreniak non devono avere altre occasioni. Mi sono persino riconciliato con il velocista Scarlatto. Suonerà ironico, ma... è il miglior alleato che abbia mai avuto. A parte te, sorellina.